Con il prossimo servizio ci occupiamo dei festeggiamenti dei corpi di pulizia municipale della bassa tesina per celebrare San Sebastiano. Vediamo. Nella chiesa parrocchiale di Bronzolo si è tenuta la tradizionale cerimonia in onore di San Sebastiano, custode di tutti i preposti all'ordine pubblico che in Italia sono chiamati vigili urbani. Alla messa, ufficiata dal parroco Don Walter Wiesentainer, hanno partecipato diversi servizi e corpi di pulizia municipale dell'Alto Adige e alcuni sindaci dei comuni della bassa tesina. Praticamente ci sono comandi che vanno da 5-6 vigili a comandi con uno o due vigili nella bassa tesina. Per tutto l'Alto Adige i comandi più grandi sono Bolzano, Merano, Bressanone e anche Brunico. E quelli festeggiano in sede da loro perché Bolzano ha più di 100 vigili, 120-130 vigili. Di conseguenza i comuni piccoli si organizzano e fanno questa festa fra di loro. Al termine della funzione religiosa il parroco ha benedetto i veicoli di servizio parcheggiati sul piazzale della chiesa. Grazie.